e l'alberto barindelli eccolo lì che sta seguendo anche lui funk cool welcome tutte le domeniche dalle 17 alle 18.30 in compagnia del dj funky sulla dj funky official page sulla don't stop the music sul mio canale youtube e anche sul mio canale twitch tv sono le ultime battute manca poco alla fine di questo undicesimo appuntamento e come detto fin dall'inizio verso la fine succederà qualcosa qualcosa cambierà ci sarà un'inversione di rotta può essere d'altronde il dj funky diventa dj funky tarro eh sì quindi ritorno proprio alle origine quando andavo a comprare i primi dischi da wimpy c'erano queste cose e poi l'appuntamento di funk cool ritorna domenica prossima solita ora dalle 17 sui soliti canali ciao bella pupetta come ti chiami boh concetta e ti piace questo nome si concetta che cosa stai ascoltando la canzone di corona che bella attenzione si diventa cattivi ahahahahahahah oh qua concetta E ora che toccando il channel musicale Vero? Cosa? Direttamente dalla Sicilia il Destroyer Che qua in realtà è uno Però va bene così Che qua in realtà è un po' Grazie a tutti. Arrivederci, eh? Il cane dov'è? No, ancora burro del cane, gliel'ho detto, è tranquillo, l'ho fatto anche castrare. Ma signora, io il cane non ho mica paura che mi culi, eh? Ho paura che mi morda. Arrivederci.